è ora di scoprire l'iPhone 15. Pronti per un salto di qualità? Iniziamo da quel design elegante. L'iPhone 15 sfoggia un display OLED da bordo a bordo ed è più sottile che mai. E sotto il cofano abbiamo il velocissimo chip A17 Bionic. Traduzione? Velocità fulminia per i giochi, il multitasking e tutto il resto. Appassionati di foto esultate. Il nuovo sistema a tripla lente cattura foto di livello professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione. E con la durata della batteria migliorata il tuo telefono ti tiene il passo per tutto il giorno. Inoltre è dotato di iOS 17 che ti offre le ultime funzionalità e una connettività senza interruzioni. Allora l'iPhone 15 ne vale la pena? Assolutamente sì. Resta al passo con i tempi e vivi oggi il futuro degli smartphone.